Domenica si gioca Bologna-Palermo, per il Rosa sarà una sfida abbastanza delicata, che partita si aspetta dopo i 5 K.O. consecutivi? Mi aspetto una partita che sarà giocata all'insegna del tatticismo esasperato, una partita durante la quale tutti i giocatori saranno chiamati a rimanere concentrati sui compiti che i rispettivi allenatori daranno loro. Nessuna delle due spade si può permettere il lusso di sbagliare una mossa, quindi mi aspetto una partita molto tirata dal punto di vista tattico. Secondo lei il ritiro a Coccaio servirà alla squadra per uscire fuori da questo momento negativo? Serve tutto, serve serenità, tranquillità, avere consapevolezza e fiducia nelle proprie possibilità, la sicurezza di potercela fare, l'autostima, servono tutte, la tattica, la possibilità di fare giocare i migliori uomini in campo, serve tutto. Serve anche un pizzico di fortuna per fare il risultato. Un'ultima domanda, Palermo-Bologna non è una partita banale. Anni e anni fa costò una Coppa Italia al Palermo, lei era in campo. Che cosa si ricorda di quella giornata amara per il Palermo? Come hai detto tu, una grandissima amarezza, perché la partita l'abbiamo dominata in lungo e in largo e poi siamo rimasti beffati per gli episodi di cui tutti siete a conoscenza. Quella partita è stata una grande beffa, infatti qualche giornale titolò il Bologna brinda con la Coppa del Palermo.